Ciao ragazze, detto ciò iniziamo subito altrimenti viene un video eterno, vi garantisco. Ma questa sopra deve sempre accendere l'aspirapolvere quando io faccio i video perché ci mancava l'aereo. Allora, vediamo se riesco ad aprirlo, vediamo se questo si stacca, si strappa, non si stacca, in realtà è comodo, in realtà è comodo. Ok, ce l'ho fatta, oddio, che scatola strana, che bello, allora aspettate che lo metto giù, amore per i rob... Stai così, fermo. Non ho schiacciato niente. L'hai fatto io, no, così. Perché? Bicoso, viù, perché... Pronto? Avete visto che lo fa? Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, video particolare, video kawaii, video puccioso, video spacchettamento anche, ma soprattutto rimanete fino alla fine perché c'è un regalino per voi, quindi insomma... Niente, non ce la faccio oggi... Ciao ragazze, nuovo video, video per voi, video per i bimbi, per i vostri bambini, perché mi è arrivato un nuovo pacco super di sbabam, con delle cosine che prevedo mi possono piacere da morire. Non so se sapete del mio... della mia passione, nel frattempo inizio ad aprire il pacco. Sono delle novità che sono uscite, trovate già in edicola tranquillamente. Non vedevo l'ora di girare questo video e di mostrarvi tutto perché sto veramente impazzendo. E quando tornerà Federico impazzirà nuovamente. Mi volevo struccare, anche se alla fine non mi sono mica truccata, però ho il mascara che avevo messo giusto per sembrare meno zombie. Sto registrando. Sto registrando. Sto registrando. Visto che, come vi ho detto, avendo la pressione un po' così, spesso sono pallida, no? E quindi ho detto, vabbè, già che faccio il vlog, un po' di fondotinta e un po' di mascara mi renderanno meno spaventosa i vostri occhi. Volevo la mia crema. Questa è anche molto buona, ma è una crema corpo. Quindi no. Dove è finita la mia crema? Ho scusato un attimo. Era qui. Mi hanno rubato la crema. Non ricordo dove l'ho messa. Mi spero. Mi spero. Completamente spaventata. E perché diceva che era impossibile? Eh, immagini, ho schiacciato questo. Ah. Ciao. Riti, sta registrando è già tutto nel portafoglio è la sanità vera e la caratteristica e lui non muore la mangio, no scherzo comunque adesso la la tiro fuori e adesso la metto nel piatto oh allora piantalo un po' comunque adesso la impiatto e Riti sta facendo l'insalata di finocchi ma no io sono appena arrivato e vabbè però adesso noi spegniamo i motori tra un po' andiamo a Ninna sì Ninna niente quindi vi mandiamo aspetta che si vedeva tutto cioè si ogni angolo c'è qualcosa che non va bene il pentolone verde l'immondizio trasparente il pentolone verde è normale lo sto lavando non guardare ma perché il suo schermo è sempre sporco? perché ti metissi? perché sto cercando di vedere dove le fai anch'io 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 tu la dog tuber la dog tuber sì va bene mi chiamiamo l'abbassotto del tubo l'abbassotto del tubo amore ti apro il canale mi fa scassare eh sì mi sono sporcata hai ragione aspetta che nascondiamo va nascondiamo la manica seduta no seduta la mia bassotta del tubo allora parto con questo qua più piccolino io e la mia panciona vi diamo il benvenuto nel momento spacchettamento vediamo se riesco a non fare pasticci sapete che io per i dei pacchi sono un po' negata allora anche perché quelli di amazon sono sempre chiusi stra bene quindi molto bene ok ce l'ho fatta cracker principalmente per quando ed è certificato ICEA ecco biocosmetics quindi mi ispirava parecchio io un giorno un altro muoio cioè ma perché mi sento sempre così annaspante oddio non sono costati poco però diciamo che è come se me li avessero regalati perché ho sfruttato i 10 euro di sconto ho detto vabbè prendo qualcosa per la piccolina banana poi aspettate che sono un po' in difficoltà l'altro filadelfia struccata e disastrata vi saluto ciao 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 Grazie per la visione!